Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita. Papa Francesco Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In verità noi tutte ci rimettiamo alla volontà di Dio In verità noi tutti ci rimettiamo alla volontà di Dio Grazie a tutti Grazie a tutti